Piazza Ancomarzio diventerà presto un'isola pedonale, il cosiddetto salotto buono di Ostia infatti è ancora una grande ZTL. Il cambio di viabilità iniziato nel 2008 non è mai stato completato e per questo motivo il Consiglio del Decimo Municipio ha approvato un documento con il quale si autorizza l'amministrazione a completare l'iter. La trasformazione toglierà alle auto ogni possibilità di accedere all'area e consentirà ai cittadini di vivere pienamente questo importante spazio di socialità. Il Movimento 5 Stelle si legge nella nota congiunta firmata da Sabrina D'Alessio e Raffaele Presta rispettivamente presidenti delle commissioni attività produttive ed urbanistica ha nelle sue priorità il rilancio della cultura e del turismo porteremo avanti presso le sedi competenti tutte le azioni necessarie affinché si possa mettere la parola fine ad una vicenda dai contorni paradossali. Piazza Sancomarzio, termina il comunicato, rappresenta uno dei punti più eleganti di aggregazione del Decimo Municipio. Ringraziamo l'opposizione che si è unita alla risoluzione del problema votando il documento all'unanimità.